I musei civici di Verona, che di norma tutti gli inverni e il martedì tengono una conferenza dedicata a vari temi del patrimonio culturale, questa volta invece accolgono il meglio della comunità museale, dei professionisti museali italiani, a partire dal Ministero, che si incontrano a Verona per parlare intanto di come è cambiato il ruolo del museo. Il museo oggi non è più quella tempio dove venivano custodite le preziosità dell'arte e della storia, ma è un luogo di incontro, è un luogo dove si va più volte anche nel corso dell'anno ed è un luogo dove tutte le persone con le loro diverse competenze e abilità possono trovare testimonianze del passato e del presente. E quindi in questo momento non solo ci si incontra per parlare, per discutere tra esperti, ma si gettano le basi per un vero rilancio del settore museale in una città che ha tra i musei più antichi sicuramente del mondo e una rete museale che è anche molto ampia e molto variegata andando dall'archeologia all'arte contemporanea. Rilancio dei musei che vuol dire che oggi al museo ci si trova anche la tecnologia, che i musei dialogano tra di loro in rete, che ci si sposta facilmente tra un museo e l'altro ed è anche un posto dove nuovi standard vengono dati di accoglienza e quindi standard di servizi che siano via via più elevati. E quindi apprenderemo nuove pratiche, ci scambieremo idee e sicuramente attiveremo nuove progettualità per il futuro per i musei della nostra città.